Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanina e di lasciare un like se questo video è stato utilissimo riguardo ai problemi di Overwatch 2 che crasha quindi se si è risolto con questo piccolo comando che troverete in descrizione oppure che leggerete sullo schermo e dovete inserirlo se andate su opzioni qui della rotellina andate in impostazione di gioco su argomente la riga di comando aggiuntivi cliccate sopra incollate questo comando che ho appena incollato qui e fate fine e ditemi se avete ancora problemi con il crash oppure il frizzo o altre cose così quindi grati tutti per questa visione un breve tutorial su come non crashare su come non frizzare sempre su Overwatch 2 quindi peraltro ragazzi scrivete nei commenti oppure entrate nel server Discord perché nello scorso video ho fatto un altro tutorial su come risolvere questi problemi con altri comandi aggiuntivi quindi come ho detto grazie a tutti per questa visione e se il video vi è stato utilissimo ti consiglio di lasciare un like ciao ragazzi ciao